Tornare a parlare del Nissan Qashqai è praticamente inevitabile. Modello di successo fin dal lancio, ancora oggi il crossover giapponese riesce infatti ad esprimersi sempre al meglio, sia grazie a nuove opportunità di motorizzazioni, sia per la scelta tra due e quattro ruote motrici in modalità totalmente automatica, ma anche per la razionalità del progetto, che perfino nel 2017 è sempre un esempio di moderna funzionalità. Scomparsa dal listino la versione a sette posti, il nuovo Qashqai oggi ha trovato una sua collocazione precisa e sistema comodamente i cinque occupanti con la consueta maggiore attenzione per la poltrona del guidatore, più flessibile nelle regolazioni. I comandi sono sempre lì dove li vorresti, un volante dal diametro ben proporzionato che si impugna gradevolmente e un cambio automatico a sei rapporti nel caso della nostra prova che non teme confronti quanto a rapidità nei passaggi di rapporti e fluidità di funzionamento. Da sempre Qashqai vanta inoltre una impeccabile tenuta di strada, pure con la sua lunghezza di 4,38 metri e un'altezza vicino al metro e mezzo. Corto per confrontarsi con le berline di segmento medio-alto, di queste però vanta i volumi interni, con tanto spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un vano a bagagli che va da 430 a 1.533 litri. E poi c'è un Qashqai per ogni esigenza, infatti si può avere un motore 4 cilindri benzina di 1.2 o 1.600 cm3 e 110 o 163 CV nella versione a due ruote motrici. In alternativa si può preferire l'alimentazione a gasolio con un 1.5 da 110 CV o un più nuovo 1.6 che ne ha 130 e con queste motorizzazioni si può avere anche la trazione integrale. Un libera scelta, su trazione anteriore o 4x4, infine la versione speciale della nostra prova, la Black Edition con cambio automatico, con una lista di accessori infinita, compresi nel prezzo di listino. E siamo ai vertici della gamma, con 35.450 o 35.950 euro per l'integrale, mentre la versione di attacco del 1.2 a benzina comincia da 20.830 euro, ma sempre con la stessa confortevole carrozzeria. Non sono stati trascurati da Nissan però nemmeno i più ossidui desiderosi di potenza esuberante, che troveranno un 1.6 dig a benzina da 163 CV, con cui Qashqai ottiene prestazioni più vicine ad una berlina sportiva che ad un SUV.